Il ponte Belvedere continua a rimanere in sospeso tra decisioni mai assunte e l'incertezza dei cittadini. È passato un anno ormai da quando l'ex assessore alle opere pubbliche e vicesindaco del Comune, oggi assessore regionale Guido Liris, lanciò l'ipotesi di una parziale e totale demolizione dell'edificio che sta sotto il ponte, a seguito dei fatti del ponte Morandi di Genova. Liris allora parlava così. Le abitazioni sotto il ponte oggi costituiscono una perplessità. Dopo il disastro di Genova ci si è chiesti se valga la pena mantenere delle abitazioni, seppur sicure, dato che dopo il terremoto, seppur costruite nel ventennio, dopo il terremoto del 2009 non hanno avuto alcun danno, se valga la pena mantenere queste abitazioni di sotto dei ponti, ma non per la precarietà dei ponti, che comunque abbiamo già potuto constatare, non soltanto da Genova ma anche in altre situazioni, il cemento armato ha una vita e quindi anche questo ponte ha una vita. E nei giorni in cui il ponte Morandi scompare in una scena che sarà epocale e che segna la fine di un ponte che ha fatto comunque la storia di Genova, i cittadini aquilani che risiedono sotto il ponte Belvedere chiedono qualche certezza in più. Gli inquilini infatti si sentono soli e abbandonati e da allora non hanno più saputo nulla, né dall'Ater, proprietaria di alcuni degli appartamenti, né dal comune. Nei giorni scorsi un residente ha chiesto al sindaco Pierluigi Biondi qualche certezza sui lavori che dovranno essere eseguiti e anche sulla stabilità dell'infrastruttura. Il sindaco avrebbe rassicurato sulla stabilità, ma secondo i residenti i calcinacci del ponte continuano a cadere e ci sono infiltrazioni d'acqua che hanno generato muffa negli appartamenti. La delibera comunale che optò per il consolidamento è datata 2017. Lo scorso febbraio però tutto si bloccò a causa della recessione del contratto con lo studio di ingegneria Romolini che stava eseguendo lo studio di sicurezza e progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo ponte. Insomma, i residenti oggi vorrebbero sapere cosa ne sarà di quel ponte. Intanto nei giorni scorsi la denuncia del consigliere comunale di opposizione del passo possibile Paolo Romano che ha dichiarato senza mezzi termini che il ponte Belvedere non compare neanche nel piano triennale delle opere pubbliche.